La nuova avventura Sei pronto per la nuova avventura? Sempre carico, sempre carico Avanti tutta! Rifugio Lago Nambino Aurora Aurora everywhere Miope e Nagpero di un ok ok vai ok 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 usa dei cavalli dai dai esatto non ok ok Grazie a tutti. 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 Che dici? Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti.